Buon pomeriggio, visto le le mando a dire, no? Allora, non le mandi a dire, benvenuto, grazie, 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 grazie. Allora Massimo, come va? Abbiamo visto tutti i tempi migliori, devo dire, no? Proprio se vogliamo essere onesti. No, adesso mi dovrò un po' calmare, sono un po' arrabbiato perché devo andare a Londra alla festa di laurea di mia figlia, la più piccola che si è laureata. Complimenti. Col massimo dei voti, sono contentissimo. Solo che mezz'ora fa Boris Johnson, lo scapigliato, ha deciso di chiudere, di metterci nella condizione di non capire esattamente quello che succede. Noi partiamo e speriamo che non ci blocchino. A causa della variante sudafricana. A causa della variante c'è sempre una ragione purtroppo drammatica, però farcelo sapere, adesso, mezz'ora, io sto partendo, come sto girando un film. E non sapeva che c'era la tesi di laurea tua figlia? Secondo me non gliel'hanno detto in tempo, se no ritardava. No, mi spiaceva il fatto perché rischio di rimanere bloccato lì, invece io sto girando un film a Roma, quindi insomma, un po' di problematiche. Ma passiamo oltre, portiamo pagina. No, dobbiamo fare conti con questo, è il quotidiano nostro, invece fai bene a parlarne, anche perché quando ci siamo sentiti durante la pandemia in collegamento mi raccontavi delle difficoltà che avevi anche con i tuoi figli che non erano con te. L'ho avuto con Margherita in particolare da Londra perché non riuscivo a rientrare, poi io ho quattro figli, così almeno chiariamo se non c'è questo di chi parla, e invece gli altri, se ne volete qualcuno ve lo do insomma, perché quattro sono tanti. E niente, purtroppo i due gemelli, che poi sono maschi e femmina, hanno avuto il Covid in forma leggerissima, per fortuna, ma molto giovani, in una maniera poi incomprensibile perché una in particolare lavora in televisione da parecchi anni e viene tamponata e controllata ogni giorno, Camilla. Ma per questo ci dice che è subdola questa cosa, non si può far finta di pensare che sia passeggera o che non ci faccia troppo male e soprattutto non possiamo permetterci di essere menefreghisti, l'ho detto io. Io cosa ho detto l'altro giorno che è stato fatto parecchi lanci alla conferenza stampa, quando mi hanno chiesto chi sono i nuovi mostri? E io ho detto tu inovax. Dico questa cosa assumendome la responsabilità perché io faccio parte di una generazione che ha un braccio il destro e il sinistro e può sembrare un reduce dal Vietnam, no? Perché con tutti i vaccini che ci facevano all'epoca, obbligatori, in silenzio, tutti in fila, col grembiule, il fiocco, le cose, beh, hanno permesso alla mia generazione di non avere delle malattie che erano mortali. È inutile dirlo perché parlavamo di vaiolo, parlavamo di... insomma, era un momento in cui il mondo intero andava incontro a questa problematica. Oggi, nel 2021, pieni di informazioni con tutto quello che abbiamo passato, con i vaccini che si fanno ai bambini appena nati, io ho fatto pure il militare, ancora me la ricordo, ci facevano un punturone qua, boom, sul petto che ci facevano passare tre giorni in una condizione... Però grazie alla scienza e al vaccino abbiamo debellato tante malattie in questo momento che siamo interconnessi più che mai. Non è solo questo, non credo una parola a tutto quello che viene detto perché viene raccontato, secondo me, in maniera semplicemente strumentale. E allora mi sono permesso di dire che secondo me i nuovi mostri diventano quelli. Prendendo in considerazione le problematiche di tutti, perché non dico questo in maniera generica, so delle paure che hanno le persone, capisco la difficoltà ad affrontare anche una situazione come questa, quindi non è che sono un pacifista, non sono un guerrafondaio. Però da questo punto di vista se devo dare una definizione in questo momento per lasciarsi trascinare da qualcuno che ti porta poi a fare delle azioni illegali, assaltare le sedi sindacali, mettere le mani addosso ai giornalisti, alle giornaliste, tutto questo purtroppo... Diciamolo apertamente quello che è successo nelle ultime ore, non si mettono addosso le mani alle persone, tantomeno se sono donne che stanno svolgendo il loro lavoro, quella è una violenza vera e propria, è una molestia. Assolutamente. Allora Massimo, questo registro doppio che tu hai sempre avuto, hai giocato su più carte, su più livelli, serietà assoluta, ma anche mattacchione, grande burlone, grande comico, grande artista, un entertainment veramente puro, purissimo, quasi un po' americano è il tuo stile, il tuo modo di porti. Responsabilità politiche. Parecchie. Pensate, questo qui, quanti anni avrai avuto quando sei entrato in chiesa a cantare Bella Ciao? Beh, ero alle elementari, alle elementari, la quinta elementare, quinto... Purtroppo, purtroppo, no, perché purtroppo, venivo da una famiglia con una impostazione non proprio cattolica precisa e quindi io quando mi hanno chiesto canta una canzone di Natale, io non le so le canzoni di Natale e allora detto che canzone sai così? E io gli ho detto sì, Bella Ciao. Io, vabbè, sono figlio di un partigiano, mio padre è stato partigiano, l'ho portato a Matausa, adesso non vi voglio, non voglio entrare in quella storia, però c'era un perché dietro a tutto questo. E la cosa che mi ha fatto impazzire è che il pianista che c'era lì e stavamo dentro la chiesa ha detto canta quella e ha cominciato a suonare. Quindi visto da fuori oggi sarebbe una bellissima scena da film, con questo che sta lì, che fa, che dice, no? Ho partigiano, ho portato via dentro una chiesa. Però venni preso e cantai per parecchi anni con questo coro della, scolastici parlo, col coro della Cappella Giulia che è quello che sostituisce il coro della Cappella Sistina. Ah però? Sì. Ti stavi solo scaldando la voce perché dopo insomma, di cosa ne hai fatto? Mi stavo preparando per Sanremo, già dall'elementare. E per tutto questo, lo vediamo. Sì. La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, meraviglioso. Io sono un attore che canta, non sono un cantante. Tu vieni dal teatro. Certo, no no, ci tengo a dirlo nel rispetto, perché io ho molti amici cantanti e dei cantanti. Ah, prendevi le distanze da quello che hai visto? No. Ah. Che arrivo, perché siccome adesso tutti cantano, tutti cucinano, tutti fanno qualunque altra cosa. Ecco, questa è stata da sempre una mia passione, però continuo ad essere un attore che canta, un attore che fa la commedia musicale, che è diverso dal cantante. Da Streller, hai villaggi vacanze però, diciamo, hai coperto tutto l'arco costituzionale, parlamentare. Non hai scontentato nessuno, nel senso che, eccolo lì, il grande maestro, eh? Quello è il grande maestro. Che emozione provavi con lui? Posso dire una cosa? Siccome è un periodo che purtroppo stanno morendo tanti grandi, forse a lui è stato dedicato meno attenzione. Questo è un signore che si chiama Giorgio Streller e che è stato, credo, negli anni 50, 60, 70, insomma, per tutta la sua vita artistica, forse il regista più bravo e più importante d'Europa, se non del mondo. E non del mondo. E azzardo, azzardo queste ipotesi perché adesso si stanno rifacendo degli spettacoli, ma era insieme a Paolo Grassi, che poi è stato anche, credo, presidente della RAI, no? Direttore generale della RAI, aprirono subito dopo la guerra, prendendo questo teatro che era stato bombardato, c'era un buco, e si sono fatti coraggio, si sono fatti aiutare e aprirono questo piccolo teatro di Milano che ha costruito nei decenni forse gli spettacoli storici del teatro italiano di quell'epoca. E lui era un triestino meraviglioso, che parlava direttore, dottore e così. E' lui che ti ha scoperto, che ti ha dato veramente fiducia, perché tu il coraggio di dire... Lui mi ha dato fiducia, io ero stato bocciato all'esame da missione in accademia. E infatti, infatti. E c'era rimasto molto male, devo dire. E' molto molto male, perché sembrava come dirti, non puoi fare questo mestiere. Poi partii per fare il militare, quindi un'altra mazzata subito dietro l'altra. Finito il militare, ho fatto le valigie con un emigrante, andai a Milano e mi presentai a un provino, da lui. Ma ti giuro mi presentai così, non pensavo assolutamente. Invece lui mi ha chiesto, che mi fece morire poi, dopo che avevo finito il pezzo che avevo preparato, che era Ricorda con rabbia di John Osborne, un testo inglese importante, che se avevo preparato qualche altra cosa, ma io c'avevo solo quello. E allora, ti avevo preparato qualche altra cosa? Dico, no, veramente maestro no. Va bene, va bene, va bene, dai, 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 poi ci sentiamo. Tre giorni dopo mi hanno chiamato e ho debuttato con lui a Parigi, al Teatro d'Odeon a Parigi, nel Relier di Scienze. Direttamente così? Wow, fantastico, fantastico. Che dovevo fare? No, anche perché poi, no, l'evoluzione, tutto il grande, cioè, le sliding doors della vita sono fatte di incontri, eccetera. Posso farti complimenti per come indossi lo smoking? In quell'occasione mi sei piaciuto tantissimo. Lo rivediamo con lo smoking. James, sono sei ore che strisciamo in questa fogna. Non ne posso più. Siamo quasi arrivati, piccolo. James, sono tutta scrupolata qui, guarda. Eh? È qui. Oh, cos'è la maglia russa? Indietro. Una chiave inglese laser? Se amate la suspense, se amate l'azione, non potete perdere. Agente 007, l'uomo dalle manine d'oro. E anche questa perdita è stata eliminata. James Bond. Pensa se chiamavi un idraulico, quanto ti chiedeva? Interessante, veramente interessante. Carla, signori. Che bella è, lei è meravigliosa. Anche Carla è meravigliosa. Ma sai una cosa, a proposito che mi dici questa cosa dello smoking, una cosa di cui sempre gli italiani dovrebbero essere in qualche maniera attenti e capire qual è la loro differenza rispetto al resto del mondo. Io stavo a Miami, a un festival, dove peraltro vinsi il premio come miglior attore, insomma, fu una cosa importante. Ed ero in smoking, perché in America a qualunque posto vai, anche se vai dalla cerimonia più piccola a quella più grande, a qualunque tipo di manifestazione, vai in smoking. No? Ci tengono. In taxidio, loro ci tengono a questa cosa. E noi eravamo andati in smoking. Io, prima di cominciare un'intervista, questa signora, questa giornalista americana, ha detto, per favore, guardate, fate attenzione all'eleganza di questo smoking. Io sono rimasto così per un motivo. Capisco la differenza, no? Noi uomini siamo vestiti con colori diversi, stoffe diverse, ma lo smoking, in qualche maniera, è come se fosse uniforme. Cioè, è una macchia nera, poi c'è adesso l'esagerazione. Però pensare che questa aveva notato non so che cosa, dentro uno smoking che per me era normalissimo... Non sa che cosa. No. Me la sono meritata, me la sono meritata. Però io non sapevo che cosa. E ho detto, dico, vedi quanto siamo fessi noi italiani, cioè che non riusciamo a capire. Perché questo era uno smoking fatto, no, no, grande sartoria italiana, ma che aveva le ance un po' larghe. Insomma, in quel momento ti è rimasto ben impresso. Eh sì, perché mi aspettavo tutto tranne quello, tranne l'attenzione sullo smoking. Ci vestiamo male qui in Italia, non ci teniamo abbastanza? No, ci vestiamo bene, la verità è questa. È che non diamo il valore. È come i romani, i veneziani, i fiorentini, i napoletani, no, che tutte le mattine si alzano, no, Vesuvio, Arcolossero, Antremorti, cose... Come? Ma voi dovete capire che c'è gente che di fronte a quello piange, no, la sindrome di Stendhal, adesso non stiamo lì a farla difficile. E noi invece ci siamo abituati. Noi è sempre col clacsono, dai, dai, cosa passa? Namo, è tardi. Però hai detto premi prima, mi ha fatto venire in mente una cosa. Questo momento è particolarmente commovente. Quel ciac d'oro, quel film di Muccino, a casa tutti bene. Eh, tu lì, ci hai proprio fatto sciogliere. Rivediamo un momento bellissimo, delicatissimo. Amore, ti ricordi di quel posto che non hai parlato dove furano quelli come me? Io voglio che tu mi ci porti prima che tutti si scordano di me. E io pure mi scordo di tutti. Pure di te. Te me no. Paggirini. Allora però, arrivati a questo punto, no? Potremmo ricordare i tuoi cento film, potremmo ricordare quei sei cinepanettoni che ti sono rimasti attaccati proprio, eh? Tac! Ma c'è una cosa che il pubblico forse non sa ancora, o si è dimenticato, e che mi affascina tantissimo. Cioè, quest'uomo faceva il battitore d'asta. Quelli che tac, col martelletto, vendono alle aste delle opere d'arte. Ed eri pure bravo. Guarda, lì mi sono trovato alla, proprio una vera slide indoors della vita, perché io stavo lavorando, ero giovanissimo, ero 22-23 anni, lavoravo in un villaggio di vacanze, e c'era questo banditore d'asta molto, molto famoso, ma veramente uno dei più importanti d'Italia, che veniva una volta a settimana a fare l'asta. E io me le vedevo perché era una forma d'arte, era uno spettacolo. Lui non è che l'asta è, ecco, adesso abbiamo questo quadro, cominciamo da una base d'asta. No, lui partiva dicendo, non so, una poesia che fosse legata a questo quadro, sottolineava, parlava dell'autore. Cioè, prima che si arrivasse a parlare di soldi. Te la faceva credere, insomma, era un grande affabulatore. Ti interessava. Ah, ti interessava. Io ero impazzito perché vedevo questa roba, successe che lui dovette andare via, e il pazzo, mio carissimo amico, che era il proprietario di questa galleria d'arte che era dentro questo villaggio, fiorentinissimo, ha detto, senti Massimo, c'è venuta una bella idea, noi si penserebbe tutti che potresti farlo tu, il banditore d'asta. Dico, come posso farlo io? Dico, io faccio l'animatore, posso fare cosa. No, ma tu adesso ti si insegna due o tre cose. E io, che evidentemente sono matto di base, ho detto sì. Ho detto sì, la prima sera, ti sto parlando di qualche secolo fa, vendemmo più di 7 milioni di roba. C'è una cifra inimmaginabile. E da quel momento sono andato avanti per un periodo. E lui mi chiese di mollare tutto, solo che io avevo appena fatto streller a Parigi, rally e tutto quanto, e l'estate stavo lì che battevo, capito, quadri di Xavier Bueno. Vabbè, insomma, gente che segue la vittura. Quella porta l'hai lasciata chiusa. Quella porta l'hai lasciata chiusa. Sono rimasto in grandissima amicizia. Invece noi adesso l'apriamo questa ruota, l'apriamo questa porta, perché voglio vedere, insomma, se ci sai ancora fare. Guarda, magari con la crisi che c'è, un po' di cose, uno può anche dire, no, tutto... Apriamo la ruota! Come puoi vedere, Massimo Dini, abbiamo preparato due pele. Sono coperte e la sua postazione, naturalmente, è là, con il martelletto. Come si chiama? Martelletto. Si sente? Si sente abbastanza? Ok, io adesso, naturalmente, alzerò questo velo, troveremo qualcosa lì dietro e lei dovrà riuscire a vendere la tela al nostro pubblico. O quantomeno interessare il nostro pubblico a pigliare questa tela. In brevicenza. Aspetta! No. Aspetta. Un po' di salsi. Allora, aspetta, no, siccome si parte, cioè, se tu la presenti così... Mi hai chiesto se faceva un bandito di gasta. Certo! Ecco, allora, se tu la presenti così, qui va coperto tutto... Tutto, tutto! Quello che serve da stimolo è aspettarsi qualcosa. Naturalmente. Perché se tu ti risulti subito e dici, ecco, è arrivato. Allora, prima di presentare quello che c'è, l'opera d'arte che c'è dietro questo lenzuolo amaranto che abbiamo qui, è qualcosa che nasce, come vi posso dire, da una scelta pittorica che è stata fatta dalla nostra pittrice, dopo passaggi che sono stati anche diversi nel modo di pitturare, di pitturare, ricerca, moltissima ricerca. C'è molta scuola anche anglo-americana dentro, no? C'è un complesso, come dire, di modernismo però che non dimentica neanche il passato. Sono d'accordo. C'è un uso anche degli oli e dei colori che è in qualche maniera moderno, diverso da quello che è stato magari fino adesso. Quindi c'è un'innovazione? Beh, c'è un'innovazione che fa parte proprio della ricerca, cioè la ricerca è fatta di innovazione e l'innovazione è quella che ci ha permesso per tantissimo tempo, voglio dire, poi di vedere creazioni che in questo momento sono nei maggiori musei del mondo. Ha lei il compito di alzare allora la tela, il telo sulla tela? E a questo punto vi ho preparato perché in qualche maniera l'emozione sarà molto forte, talmente forte che cade anche il quadro. Eccola qua. Perfetto. Perfetto. Come potete vedere... Non è stato detto che l'opera doveva farla lei? Questo non l'è stato detto? No, non l'è stato detto perché non sarei venuto più in trasmissione a quel punto. Ecco perché non gliel'hanno detto. Per quello. A me mi hanno detto che dovresti farla tu. Ma non c'è tempo, guarda, il tempo è finito. Però mi hanno detto che era mano... Noi potevamo... Diciamo che possiamo scegliere fra due cose. Una, come dire, un'arte astratta... Bella. ...che quindi è aperta a qualunque cosa, o una paesaggistica. Dico questo perché la ritrattistica, meglio lasciarla aperta perché sennò comincia a fare un naso lungo come Pinocchio. Dici che non sono portata sulla ritrattistica. Non dico tetico in generale su tutto quello, no, ecco. La paesaggistica in qualche maniera la facevamo a scuola pure, no? Poi tutti. La collinetta, l'alberello, la cosa. Alberello, la casina. L'astratta ha la possibilità di poterci permettere poi qualunque tipo di giudizio, potremmo chiedere a quelli del pubblico, no? E qui c'è dell'astrattismo. La differenza sta nel pennarello che hanno messo lì, che fa usare, quindi non c'è olio, non c'è cosa, cioè, quindi, ed è molto più moderno. Sarebbe mostruosa però, mi lasci dire, una mia opera su questa tela. Questo, sia gentile, lo lasci giudicare a noi. Ah, certo. Perché se no è già un auto giudizio, eh sì, no, invece uno potrebbe. Uno potrebbe. Io prendo un colore a caso. Astratto o paesaggistico? Astratissimo, proprio uno. Potremmo fare un paesaggio astratto. È così, però è dura, eh. È perché è più facile, nel senso che poi, e dopo gli puoi dire, da sta parte è astratto, da sta parte è paesaggio. Allora, la butto là, la butto là. Assolutamente. Lascio spazio. Ecco, già si vede una mano. È cala, bella, fatto. Beh, devo dire che, vuoi ripassarlo con un altro colore, solo? C'è tutto. Tanto per dargli più possibilità, perché credo che non si veda niente da giù, è vero? Non si vede? Però il nero mi rovina il paesaggio. Il nero... Siete onesti. Il nero... Il colore che va a contrasto, così... Eh sì, beh... Il marrone, va bene, va bene, va bene, va bene, capito. Il marrone, ok. Però che... Che... Aiuta, capito? Qui ci sta bene il marrone. Eh, vedi, vedi già... Qui ci sta bene. Ecco, già come nasce qualcosa. Qua, eh, anche un po'. Vedete? Ma non esagererei, perché sennò si perde... C'è già qualche cosa, vedi? Che c'è? Eh beh, come dire, questo è un movimento che può anche ricordare in maniera molto semplice il mare, le onde del mare, no? Questo domandarsi in fondo perché siamo qui. Puoi uscire insieme a lei. Potrebbe anche essere quello, vedi, il testo di una canzone. Potrebbe. Questa linea che è quella di Kandinsky, dal basso in alto, ma adesso è inutile che entriamo nel coso. Il cappello di Pinocchio però, questo qua è bello invece, secondo me, è quello che c'ha più forza. Perché è il ritorno all'infanzia. Non pensavo che potesse essere comprensibile il cappello di Pinocchio. Beh, il cappello di Pinocchio è la cosa più forte che c'è. Pinocchio che va alla ricerca di Geppetto nel mare e lo troverà, chissà, forse sì, forse no. Ha creato un libro, cioè una storia. No, così si vendono i quadri. Dal niente. Ma per fortuna c'è qualcosa qua sotto di già realizzato, di molto artistico. Grande fantasia. A me, generalmente, le foto dei miei film non mi piacciono. Ah, questa locandina è bella. Questa qua, secondo me, è una foto bellissima. Svegliamola insieme. Eccolo qua. Questa è... Una famiglia mostruosa. Questa è una famiglia mostruosa, che è il film che è uscito ieri. Dove ci sono, insieme a me, Lucia, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo, Manuel Arei, Paolo Calabresi e la regia di Wolfango De Biasi, che è un regista col quale oramai è serato un bellissimo rapporto di lavoro. E questo film ha una particolarità. È un film... Non è un film di Natale, ma lo dico avendole fatti parecchi, quindi non è che mi distanzio da questa cosa. Ma la forza di essere una commedia estremamente divertente, ma non una farsa che in qualche maniera, come dire, scimmiotta altre cose. Perché tutti hanno detto, ah, la famiglia Adams, la famiglia Adams... No, ma che il messaggio poi è molto importante. Assolutamente niente, perché in questo racconto, in questo film, voi troverete una vera famiglia di mostri e un'altra famiglia che dovrebbe non essere di mostri, ma che alla fine si dimostrano più mostri dei mostri, che sono una serie di pacchianissimi, ricchissimi, pieni di soldi, che si presentano nella villa, nel castello di questa famiglia del conte Vladimiro, che sarei io. Ma non raccontiamo tutto, perché possiamo anticipare attraverso le immagini. E solo per dire che c'è questa idea di fare una commedia italiana con degli effetti speciali pazzeschi, sono quelli che fanno Harry Potter, che hanno fatto gli effetti per noi. Ah, però! Quando ce l'ho, ce l'ho. Capito? Ecco. E sta piacendo, insomma, sta piacendo molto. Comunque, Gini, è figo anche vestito così, eh? Guardate lì. Ah, sei tu. Telefono! Salmetta, quante volte ti ho detto che non mi devi svegliare così di soprassalto e non mostrare i denti a tuo padre, chiaro? Chi è? Tuo figlio. Ad Alberto! Cucciolo di papà! Eh, sapessi quanto mi manchi! Quanto ci manchi! Ascolta, ho un problema. Vabbè, dillo a tuo papà che si risolve il problema. Mi sono fidanzato. Ma meraviglioso! Con un'umana. Il resto della commedia vi aspetta al cinema con Massimo Ghini che rimane invece dentro la ruota e che si porta a casa questa bellissima locandina perché gli piace a Ciappurà a Gornice. Me la prendo, me la porto via così. Guarda, è perfetto. Anche l'occhialino stilosissimo. Una famiglia mostruosa. Chiudiamo la ruota. Ciao Massimo. Grazie. Andate al cinema!